Dalla terra alla tavola, il 13, 14, 15 ottobre a San Pietro a Nattisone, il buono di Fiera Mercato, tour enogastronomico con degustazione, prodotti acqua e delle valli del Nattisone Degustazione, show cookie, informazione, intrattenimento, commercializzazione Il buono di, il 13, 14, 15 ottobre a San Pietro a Nattisone Con il patrocinio di ETSA, l'Agenzia di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia